Benvenuti in questo mio nuovo video, andiamo a vedere come completare la sfida Cerco lo gnomo nascosto tra la segheria Truceolandia, un capanno di legno e un albero dei secchi Lo gnomo si troverà esattamente qua, guardate, non mi compare, perché non ho ancora sbloccato la sfida Comunque si troverà esattamente qua, la segheria Truceolandia è esattamente questa qua Poi il capanno è quello, è un albero dei secchi e questo qua, lo gnomo si troverà esattamente qua Comunque questo video finisce qua, spero che sia piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornati su Fortnite Lascia un bel viaggio per supportarmi, commenta e condividi, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi Ciao